Valentina Di Lauro di Consea SRL, una giornata dedicata alla presentazione di alcune iniziative di Chima Ambiente. Abbiamo visto il discorso relativo all'applicazione riciclario, ma vogliamo anche soffermarci su un qualcosa di simpatico che è stato creato, una forma di comunicazione attraverso il nostro linguaggio, attraverso il nostro vernacolo e quindi una serie di frasi tipiche del nostro patrimonio culturale, perché il dialetto è cultura, con le quali frasi si cerca di indirizzare ad una raccolta differenziata, matura, civile. Sì, grazie alla preziosa collaborazione di Inchiostro di Puglia, che è da anni ormai conosciuta su tutto il territorio nazionale per la diffusione di questi motti dialettali pugliesi, abbiamo sviluppato quattro tavole che verranno diffuse su tutto il territorio comunale insieme all'amministrazione, verranno affisse nelle colonnine di Chima Mobilità, quindi le fermate dell'autobus, con frasi che richiamano direttamente il dialetto tarantino e che servono in maniera simpatica a sensibilizzare il cittadino sulla raccolta differenziata e tutto ciò che riguarda il rispetto per l'ambiente e quindi il territorio. Grazie a tutti!